Circa 300 persone hanno partecipato nei giorni scorsi alla manifestazione Accendiamo insieme una luce sui libri, svoltasi al fine di informare, sensibilizzare e mobilitare la cittadinanza relativamente alla mancata apertura della nuova biblioteca comunale di Via Laviano. L'iniziativa promossa da FIAB, Caserta in Vici, Libreria Mondadori e Speranza per Caserta ha visto i partecipanti alla pedalata radunarsi davanti alla biblioteca dopo aver percorso le principali strade cittadine. Alcuni cittadini poi, a turno con l'ausilio di un megafono, hanno letto brani tratti dai libri che ciascuno aveva portato con sé. È stato un piacere constatare, hanno detto gli organizzatori, che molti dei partecipanti erano giovani studenti. A conferma che il problema è fortemente sentito dalle nuove generazioni che sperano di avere in questa città una biblioteca anche come luogo d'incontro. Alcuni libri sono stati lasciati all'ingresso della nuova biblioteca e a fine manifestazione sono stati raccolti e saranno quindi consegnati al comune con il timbro FIAB, Caserta in Vici, quale donazione simbolica alla biblioteca. All'appello lanciato dagli organizzatori hanno aderito e partecipato numerose associazioni, giusto per fare qualche nome, dal Teatro Civico 14 ad Amnesty International, Joseph, i Salesiani, WWF e tanti altri ancora. Caserta chiede una biblioteca, hanno detto a gran voce, e chiede che questa problematica sia ritenuta urgente quanto le altre questioni che impegnano i nostri amministratori. Confermiamo la nostra totale disponibilità a collaborare per arrivare ad una soluzione concreta.